Nuovo modello di business, questo è veramente interessante, sempre con l'aiuto della nostra cara e amata intelligenza artificiale. Queste ragazzi sono tutte idee di business online che si possono sviluppare con zero competenze, quindi chiunque può mettersi qui basta ovviamente un po' di impegno e può realizzare il proprio business o più di uno. Io ve li mostro, poi ovviamente sono solo idee, si possono condividere eccetera. Quindi la prima intelligenza artificiale che può esserci di aiuto è un'intelligenza artificiale generativa, in questo caso io ho scelto Adobe Firefly perché ho visto che mi ha dato il risultato migliore perché lo stavo effettivamente provando a replicare questo business, ma come vedrete in questo video sarà veramente molto molto semplice. Anzi fatemi sapere se siete interessati a conoscere comunque altre idee, altri modelli di business simili, se vi possono interessare fatemelo sapere nei commenti o comunque lasciate un mi piace, supportate questo genere di video. Allora, questo modello di business può essere utilizzato perché no in questo periodo, ma dovrebbe essere fatto in fretta perché sotto Natale mi sa che potrebbe andare ancora meglio del previsto, magari da utilizzare, da fare come regalo eccetera. Ma andiamo a vedere come funziona. Andiamo in Adobe Firefly, io mi sono fatto fare già delle immagini che ci serviranno, ovviamente l'ho fatto a tema Natale proprio perché ci può essere di aiuto, ma andiamo a vedere di cosa si tratta. Avevo provato a realizzare altre immagini con Leonardo AI, ma non mi sono piaciute, ho fatto in piazza con Adobe Natalizi eccetera, mentre Adobe Firefly mi ha dato l'opzione migliore, ce l'avevo pronta qui, eccolo qui, guardate un bel quadretto. Ma a cosa ci servono queste immagini che sto realizzando appunto con l'intelligenza artificiale? Poi ragazzi possiamo fare qualsiasi cosa, foto di animali eccetera, ma a cosa ci serve? Veramente molto semplice perché una volta ottenuta la nostra immagine, come vedete vabbè io ho fatto come prompt, ci ho messo crea paesaggio con atmosfera Adobe di Natale, ho messo qualche modifica alle impostazioni e ho ottenuto questo che devo dire è già abbastanza carino. Una volta che andiamo a salvare la nostra immagine cosa dobbiamo fare? Ci basterà andare su Printify. Printify cosa ci permette di fare? Adesso vi faccio vedere cosa realizzo. basterà cercare puzzle, guardate qua, possiamo andare a personalizzare il nostro puzzle per poi andarlo a rivendere. Quindi non ci basterà altro che andare su, non so, vogliamo fare una confezione più carina, magari da utilizzare appunto poi come regalo. Come vedete ci farà stampare le nostre foto con i nostri pezzi eccetera. e Printify si occuperà anche della spedizione eccetera. Quindi una volta fatto questo possiamo andarlo a personalizzare con l'immagine che abbiamo generato con la nostra intelligenza artificiale. Come avete visto è veramente molto semplice, in tre minuti abbiamo il nostro prodotto e dopodiché possiamo andarlo a rivendere. Ovviamente si occuperà Printify già della spedizione e tutto ma possiamo andarlo a rivendere su Etsy quindi creando il nostro negozio online su Etsy ma non solo, adesso Etsy è un'idea. Ma una volta creato appunto il nostro prodotto possiamo utilizzare il link di vendita anche sui vari social quindi magari fare un video carino su TikTok, sugli shorts, sui reel eccetera provare a sponsorizzarlo, perché no? Come vedete, vabbè, mentre stiamo parlando sto andando a personalizzare il prodotto qui cambiamo un attimo la misura eccolo qua facciamo una preview, andiamo a vedere come sta avvenendo effettivamente guardate qua ci genera anche immagini da poter utilizzare poi effettivamente sui social o quello che sia dove noi ci possiamo impegnare a vendere il prodotto come vedete ecco qua cioè veramente bellissimo da utilizzare appunto, ripeto, come immagine ecco qua, qua ci verrà mostrato più o meno come verrà la confezione così possiamo personalizzare eccetera e ragazzi, idea veramente, devo dire, molto molto carina come avete visto, molto semplice da realizzare e si può fare, poi ripeto, con foto personalizzate magari offrendo un servizio più personalizzato possiamo farlo con... ecco, sfruttando questi periodi magari come idea natalizia quindi proporla in vendita così effettivamente vedete con tema, natalizio eccetera oppure come vogliamo, foto di animali o altro che vanno solitamente tanto online soprattutto se pubblicizzate nel modo giusto magari sì, si può pensare di fare una campagna con ads magari nei vari social oppure no, provarci semplicemente con dei semplici video e vedere che risultato si può ottenere e come vedete in veramente tre passaggi abbiamo realizzato il nostro prodotto da vendere online e possiamo avviare il nostro store ovviamente all'interno di uno store magari nel caso appunto si vada a realizzare un vero e proprio store su Etsy o altro Shopify dove vogliamo effettivamente una volta che abbiamo il nostro store possiamo andare anche a personalizzare tanti prodotti diversi quindi magari non per forza vendere solo quello quindi magari una persona entrerà per comprare questo ma all'interno dello store vedrà più prodotti e da sé sceglierà quale gli piace di più oppure comprarne e regalarne più di uno idea veramente carina che ho trovato online ripeto fatemi sapere se volete altre idee del genere su come realizzare questi business che mi piace, mi piace trattare questi argomenti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti